Rieccomi un'altra volta nei panni di partner di Giovanni De Rosa, che molti di voi probabilmente ricorderanno come il vero motore dietro alla playlist di buon successo sull'ASPNET MVC5. E Giovanni si occuperà anche in questa dell'architettura delle varie lezioni, preparandomi dei veri e propri canovacci con tanto di esempi e anche commenti e spiegazioni, che io per così dire sceneggerò con un occhio, spero, particolarmente attento agli aspetti didattici, che è la parte in cui mi sento più a mio agio. I primi video saranno pilota, pilot, come nelle serie televisive, e poi in base al grado della vostra accoglienza, vedremo se limitare il tutto ad una interessante introduzione, comunque utile, oppure proiettarsi verso una playlist di portata più ampia. Insomma, dipenderà un po' tutto dal numero delle views. Ma veniamo al tema della playlist. Anche se la piattaforma WinForm, quella sulla quale trovate diverse playlist sul mio canale, non può certo considerarsi morta, ci sono ancora tantissimi progetti attivi. Ed anche se per piccoli progetti personali, ma anche a limite commerciali, con requisiti abbastanza stabili, può essere ancora conveniente usare WinForm, è un po' esagerato usare il PPF, per i motivi che vedremo, è sempre più probabile che i progetti nuovi nascono con quello che può essere considerato l'erede di WinForm, appunto il Windows Presentation Foundation. Lo sappiamo, lo sappiamo, qualcuno starà pensando alle cosiddette Universal Windows App, U-U-W-P in sigla. È indubbio, almeno molto probabile, che in futuro questa tecnologia giocherà un ruolo fondamentale come player, almeno nel mondo Windows. Ma oggi, e per un po' di anni, è prematuro. Intanto perché non è così matura come WPF, come tecnologia. E poi, secondo particolare fondamentale, non è disponibile per Windows 7. E tutti sappiamo quanto ancora sia diffuso e per quanti anni lo rimarrà a livello aziendale. E non solo. Ecco perché molti analisti dicono che oggi partire con un nuovo progetto e scegliere il Windows Presentation Foundation sia la scelta più saggia. Questo, in abbinamento con il pattern architetturale Model View View Model, fornisce diversi vantaggi, di cui faremo una panoramica tra pochi minuti. Prima, infatti, vorrei dire due parole sui prerequisiti. Il primo, indispensabile, è un'adeguata conoscenza del linguaggio C Sharp. Forse anche di base, ma senza trascurare gli aspetti legati alla OP, può essere sufficiente. Come ambiente di sviluppo va benissimo il Visual Studio 2015 o anche il 2017. Ricordatevi ovviamente, quando andrete in fase di installazione a indicare il workload, cioè le aree da coprire, indicate la parte, ma è quasi scontato, con WinForm che porta con sé .NET, il WPF e il supporto al linguaggio col quale verranno descritte le interfacce, che è XAML. E adesso diamo un'occhiata ai vantaggi, una carrellata. Prima di tutto, una grossa flessibilità della GUI, della Graphical User Interface, in questo senso. WinForm ha parecchi componenti visuali preconfezionati, ma abbiamo pochi margini di personalizzazione. E non a caso fioccano i prodotti di terze parti a pagamento, perché per personalizzarli lo si può fare, ma c'è abbastanza da smanettare con il codice. Con WPF invece avete i mattoni elementari per costruire una GUI, e sarete voi a poterli combinare come più vi pare e piace, superando anche di molte complessità i componenti visuali WinForm. Ed in questo modo è facile produrre app che integrano sull'interfaccia componenti multimediali di varia natura, organizzati secondo relazioni reciproche anche molto complesse, senza i limiti, tra virgolette, tipici del WinForm. Però c'è un prezzo da pagare. Magari per fare quei controlli abbastanza semplicini, che trovate già belli pronti all'uso con WinForm, qui all'inizio almeno dovrete sudarveli. C'è una curva d'apprendimento, ricordatelo, nettamente superiore, per cui all'inizio vi sembrerà, e probabilmente sarete meno produttivi, ma superato quel punto di soglia critica, non rimpiangerete lo sforzo fatto per imparare. Tra parentesi, per qualcuno può essere un bonus, il look and feel che otterrete è automaticamente quello al Windows 10. E tra i bonus di XAML, non trascuriamo il fatto che la grafica sia definita in modalità vettoriale, cioè non raster bitmap come WinForm. Traduco, significa che la vostra interfaccia, essendo basata su descrizioni geometriche, potrà essere ridisegnata al meglio, dalla risoluzione possibile, su qualunque tipo di dispositivo, qualunque sia la dimensione e il formato del display. E non dimentichiamoci, osserva Giovanni, che XAML è anche un ponte per lo sviluppo di app per iOS e Android. Quello che imparerete potete spenderlo anche su queste piattaforme. Il pattern MWM prevede una netta separazione tra quelli che sono gli aspetti di presentazione, la GUI, il codice che rappresenta la logica di funzionamento e di elaborazione, e la sorgente dei dati, il cosiddetto model. Questo facilita, tra le altre cose, il lavoro in team, i grafici possono occuparsi degli aspetti di presentazione, i programmatori degli aspetti legati alle funzionalità. e facilita l'ase di test, la manutenzione e anche l'estendibilità. Questo però solo per progetti con un minimo di complessità. Un piccolo progettino volante, probabilmente potete farlo e forse converrà a farlo ancora con il WinForm. La separazione tra l'aspetto di presentazione e il codice favorisce il riutilizzo di quest'ultimo. Infatti MWM, se rispettato, porta a una naturale separazione, abbiamo detto, tra l'interfaccia, la logica applicativa, il modello d'accesso ai dati. E quindi, ciascuno di questi componenti potrà essere riassemblato, ad esempio, cambiando l'interfaccia o cambiando la sorgente ai dati, cambiando banalmente il database management system utilizzato. Insomma, cambiare uno dei componenti non costringe a ribaltare gli altri. Sempre MWM, in modo naturale, incentiva la preparazione di moduli software piccoli e che si integrano tra di loro. E questo, secondo diverse autorevoli fonti, in generale è comunque un buon modello di sviluppo. Altro aspetto molto importante è la facilità e la sofisticazione con il quale si possono realizzare schemi di data binding. Leggete, stile dichiarativo. Significa che già in fase design dell'interfaccia possiamo collegare, senza scrivere codice procedurale, cioè senza spiegare il come attraverso delle istruzioni, ma descrivendo relazioni che legano, non so, una casella di testo con un campo di una tabella di un database o di una sorgente dati qualunque. Poi l'aggiornamento bidirezionale avverrà in automatico. Ecco, riteniamo di avervi fornito uno spaccato abbastanza completo di quello che potrebbe diventare la playlist, per cui a questo punto, a me e a Giovanni, non rimane che augurarvi una risentirci. Alla prossima!